Cristina D'Avena ha verissimo per festeggiate i 40 anni di carriera. La cantante è stata ospite di Silvia Toffanin. Assieme alla sorella minore Clarissa. Per quest'ultima si è trattata della prima volta in tv. Durante l'intervista si è palesato in studio anche Marco con Cristina ha lavorato da giovane per ben 4 anni. Ci vogliamo bene. Abbiamo riso tantissimo. Hanno spiegato i due ex colleghi. Sorridendo affettuosamente. Spazio poi al successo e alle colonne sonore che hanno segnato milioni e milioni di italiani. La cantante ha anche spiegato qualcosina sulla sua blindatissima vita privata. Incalzata da Silvia Toffanin. Che ha voluto sapere a tutti i costi se ci fosse un lui nella sua vita. La Davena ha raccontato che sì. C'è una dolce metà. Ho un compagno. Sto benissimo. Alti e bassi come per tutti. C'è complicità e rispetto. Ha sottolineato. Senza svelare l'identità dell'uomo. Dopodiché ecco che è stata raggiunta da Clarissa. Con la quale ha un legame stretto e profondo. Le due sorelle ridono e si prendono spesso i giro. Un vero e proprio turbinio di sorrisi e felici. Lei è uno scorpione e mi sgrida sempre. Ha confidato alla padrona di casa di Verissimo Cristina. Riferendosi a Clarissa. Dopodiché questa. Su richiesta della Toffanin. Ha elencato pregi e difetti dell'artista. Lei è ritardataria. Pigra. Ma a livelli. Pregi. Sempre sorridente e positiva. Lei è nata con il sorriso. E poi è morta. Diversi telespettatori hanno sono rimasti di sasso nel notare quanto le due sorelle si somiglino. Congratulandosi con entrambe per l'aspetto fisico. Sono uguali. Identiche. Due gocce d'acqua. Etici eccetera. Cristina d'Avena ha 58 anni. La sorella Clarissa ne ha 10 in meno. Originaria di Bologna. Quest'ultima lavora come addetta stampa della cantante e di alcuni altri artisti. Nel corso della sua infanzia ha partecipato al coro dello Zecchino d'Oro. Al pari della sorella. È assai riservata sulla sua.